Guardate me, io avevo due ernie, voltarei muscolini, puntumate la mia mamma, puntura sulla schiena, chi ha fatto puntura su alle 4, alle 5, con gli aghi alti così, sanno cosa vuol dire. Sanno svegliarsi e ogni tanto crollava la gamba sinistra e cadere per terra a 20 anni. Quindi, secondo voi a livello emotivo ero pronto a lavorare su me stesso, a essere positivo, o ero incazzato, guarda con 20 anni, soffinio, non posso più andare a donne, non posso più fare qua, soffinio in fabbrica, o no? Ero pronto per lavorare sul conflitto? No! Allora dovevo usare lo stesso i farmaci? No! Ecco che sono nate biotecnologie per quello. Intanto ti do l'energia necessaria per toglierti il dolore, per avere più forza nel muscolo. Se io sto giù, sto male, è inutile che vado a lavorare sul conflitto. Prima devo riprendermi a livello energetico e star bene. Quando sto bene, può succedere, puoi avere delle guarigioni miracolose, se la persona magari aveva già lavorato sul conflitto, o quell'informazione non c'è più nella sua vita. Quindi gli era venuta l'ernia perché litigava sempre con la moglie, la moglie si è divorziati, non si vedono più, non ci pensa neanche più, la memoria non ha fatta, mette il chiudischio e gli va via il problema alla schiena. Il chiudischio, se mi dà una guarigione, vuol dire che io ci ho già lavorato su quel conflitto o la causa interiore non ce l'ho, l'ho già pulita magari con altre tecniche. Se invece il problema mi dura o non mi va via completamente, vuol dire che c'è una memoria. Il chiudischio mi dà, al posto di aver fatto dieci massaggi, dieci terapia, ho risparmiato un sacco di soldi, sto subito meglio, adesso vado a vedere sul conflitto. Per me è successo questo, magari voi ci avete già lavorato, siete già a posto, questo è importante che dopo una gente domani comincia a scrivere su ah Marco ha inventato le biotecnologiolistiche, guarigione nel mondo. No, ognuno di noi poi deve sempre lavorare su se stesso. Il chiudischio è nato per eliminare tutte le dipendenze di integratori, farmaci, prodotti, da prendere tutti i giorni, basta, quello è nato per questo. E va a lavorare su quella sfera di frequenza lì, ok? Però vi dà un aiuto forte e un'indicazione e vi dà un sostegno energetico a livello emotivo. Perché come dicevo prima, se ti viene fuori gola, comunicazione. Allora sai che la causa di quel problema che ti ha tolto il chiudischio, devi lavorare sull'autostima magari. E quindi ti dà anche l'indicazione. Ti vanno a lavorare anche dal punto di vista emozionale. I punti dietro sono semplici. Si parte, questo è dietro per me, perché va sul governatore. Anche se è davanti, tutto, la qua in giù, davanti, la qua in su, dietro. Punto dietro parte qua. Terzo occhio. Poi su qua, fa male, non qui è il terzo occhio, non è come si mettono la stellina, è più giù, è qua. Vedete in mezzo le sopracciglia, un po' più in alto, c'è un punto che fa male se tocchi. Ok? Quello è il terzo occhio. Sarebbe la sede dell'anima, la sede della preveggenza. Quindi se viene fuori quel terzo occhio, vuol dire c'è qualcosa che non vedi, allarga gli orizzonti. O fai un passo indietro e guarda il problema da un'altra angolazione, quando viene fuori questo punto qui. Perché tu vedi il problema perché sei dentro il problema. Ma se tu fai magari così, vedi, ah, c'è già la soluzione qui, non è più un problema. Consapevolezza. Capite quando viene fuori il terzo occhio? Devo solo allargare i miei orizzonti, vedere qualcosa in più. Base del collo, C7, settima cervicale. Qual è? L'osso che esce, se io faccio così, c'è un osso che esce più sporgente degli altri. Giusto? Io lo chiamo base collo, linguaggio signora Maria, linguaggio fisioterapico C7, settima cervicale. Lì è collegato l'elemento metallo, l'elemento metallo non sono le preoccupazioni. Che preoccupazioni ho? Perché mi preoccupo? Delle volte viene fuori preoccupazione, lasciare andare, lascia andare delle preoccupazioni e guarisci. E poi c'è, qua c'ho il sacro, vado su, vado su. Alla L4, L5 è dove c'è una piccola fossetta. Se io sto dritto con la schiena, la nostra schiena non è dritta, ma è così, giusto? C'è una piccola fossettina, quello è il punto L4, L5. Sarebbe tre dita sopra il sacro. Dall'osso sacro, tre dita, su, sento che c'è una piccola conchetta. Quello è l'elemento reni, l'elemento acqua, paura. C'è un po' paura di qualcosa. Che paura hai? Ricordatevi che la paura è contro l'amore. Non sei in amore, lavora sull'amore o elimina. Allora, anche lì, o lavoro sulla consapevolezza dell'amore, o posso, devo lavorare su lasciare andare un ricordo della valore con l'inconscio. Ho un trauma vecchio che mi crea paura. Però ricordatevi che i Q-Disc hanno un campo che mi pare a 7 cm. Quindi, se io devo fare la gola e lo metto qua, ci sono 7 cm. Funziona. Al posto di fare l'effetto in 2 minuti, mi fa effetto in 10. Adesso provo a alzare, non a spingerti. Io tiro su. Stai, guarda sto dritto, eh. Stai forte. Guardate, io non lo sto spingendo. Guarda, io vado verso l'altro. Forte. Non lo sto spingendo. Tu tiri l'altro. Ok. Poi, adesso sempre dritto così, metti, guardami a me. Questo, guardami, Carlo, guarda a me. Il pollice deve essere linea del naso. Quando giro a testa, guardami, il pollice non deve fare così. Deve stare qua. E le piedi ben piantate a terra. Vai. Girati. Questa è l'elasticità. Vai, vai, puoi andare ancora un po' più indietro. Vabbè, sei anche incricato, quindi no. Va bene, fino a qua. Avete visto? Bene. Di equilibrio e di elasticità è fondamentale perché se una persona ha poco equilibrio può rischiare di farsi male. Può addirittura cambiare anche i denti, la mandibola. Se uno cammina male è importante di tutto essere equilibrati. 50% del peso deve andare a destra e 50% del peso deve andare a sinistra. Sia per i dolori di schiena, tutto quanto. Perché se tu cammini perfetto in equilibrio non hai problemi di lombari, cervicali, vi dicendo. Addirittura anche i problemi dei denti. L'efficità è fondamentale per non creare strappi, contratture. Perché se devo fare un lavoro di peso. Quindi non solo gli atleti dovrebbero stare a posto. Poi se sono un atleta ancora di più. Adesso mi devi prendere le spalle e mi devi spingere. Fai come me. Vai. Vai. Spingi. Non ce la fai, non ce la fai, sono più forte. Vai. Fa fatica, prova te. Puntati, puntati, boi apposciante. Vai. Adesso applico i tuoi disc. Grazie. Settima cervicale qui. Ok. Ah, i tuoi disc potete applicarli anche sopra i vestiti. Punto davanti, abbiamo detto. Timo. Timo è qua, è gola. Qua c'è esterno. Eccolo qui. Forte. Forte. Avrà preso 20 chili. Come cosa? Aspetta. Poi, dritto come prima. Mi raccomando il naso. State attenti che non inganni, eh. Vai. Un po'. Aspetta. Vai, spingi qua sulle spalle, adesso non mi fai male. Vai. 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 5, 4, forte. Sì, ma ricca. Vip. vaccinations. Ti. Sì, ma ricogen. Va. Va. Va.